Il numero di ricetta 85, 86, che numero è? 384 381 ci siamo 382, 383 384 E' un po' morto non lo mando Il loco è che io I suoi sono freschi, con cui ho messo Poi toccato? C'è per ne solo Questo loco è nostro, lo riesce pure il comune Non è che tu giusto, sei occupato Ma io ora ho cliente, che cosa ci dico? Che ne sa, cioè, cercate Buongiorno Buongiorno Ah, lei è quello che ha ordinato il servizio? Sì, esattamente Buongiorno Io sono Onofrio Principato Sono il titolare delle pompe funebri L'amico nostro qua ci stava dicendo che purtroppo C'è stato un piccolo qui pro quo E' uno scambio di loculi Ecco, cose che capitano Qualcuno Qualcuno Si è venduto lo stesso loculo due volte In questo cimitero ci sono troppi morti e pochi loculi E si oga nei kite E se li giocano a carte Ho capito Però risolviamo Beh, voi cosa intendete fare? Io ho un po' di premura, domani devo essere a Catania Domani? Ma lei parta tranquillamente Alla tumulazione ci pensiamo noi No, 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 no Io voglio essere presente E' un parente? No, ma è come se lo fossi Ho capito E vabbè, allora Facciamo che lei va a casa Noi invece andiamo all'ufficio cimiteriale del comune E risolviamo questo increscioso equivoco No, niente affatto Io preferisco venire con voi in comune Va bene Prego Di qua? Prego, prego Grazie